Un nuovo sit-in di protesta davanti alla casa circondariale di Via Magli a Taranto. I parenti dei detenuti hanno infatti manifestato pacificamente per rappresentare la propria vicinanza agli ospiti del carcere tarantino. Lo sto ripetendo in tante televisioni. Noi ci dissociamo da qualsiasi tipo di manifestazione violenta, però ci devono dare delle risposte. Io vengo da Matera, mio marito ha il carcere di Matera, mio marito mi ha scritto che il 20% dei detenuti hanno la febbre. Perché? Perché non ci danno risposte? Perché non ci dicono cosa sta succedendo? È un nostro diritto saperlo. Vorrei fare un appello a Bonafede. Lei vede che sta succedendo tutto questo, però non vedo che lei ci sta mettendo la faccia, che si fa vedere da tutti noi, che ci dice qualcosa. Ha detto solo no a amnistia e noi indutti. Benissimo. Una pena alternativa? Dove la troviamo? Caro Ministro Bonafede, io sono qua. Aspetto di parlare con lei. Lei deve incominciare a parlare con qualcuno di noi familiari per capire anche le nostre dispiegazioni, per sentire anche le nostre spiegazioni. I ragazzi sono chiusi nelle celle, non gli è dato possibilità di uscire e praticamente loro non sanno che gli avvocati non possono entrare perché c'è un'istanza del Ministero. Vogliamo chiedere che almeno gli comunicassero questa cosa perché ci sono stati tolti i colloqui, ma dovevano sostituire con delle telefonate. Il giorno del colloquio doveva essere sostituito con 20 minuti di chiamata. Ieri noi non abbiamo fatto colloquio perché è giusto che sia così per l'ordinanza, però invece di concederci 20 minuti di telefonata, la telefonata non è stata fatta. La telefonata per noi è importante perché? Per creare ordine e dire ai nostri ragazzi di essere tranquilli e sereni. Che se minimamente vogliono fare una protesta, una guerriglia, è meglio che non lo fanno perché è controproducente per loro. Quindi noi vogliamo queste chiamate perché giustamente loro non sanno niente da fuori, non hanno contatti con gli avvocati, non li comunicano dall'interno niente. Quanto può rimanere questa calma? Per quanto tempo può rimanere?